Dunque Tamara, pensa te la responsabile o nuova responsabile dell'organizzazione dei tornei giovanili al Magrazzurri è una donna, che ne dici? È una donna, è una donna e sono contentissima di questa cosa perché il calcio è prettamente maschile ancora purtroppo invece il Magrazzurri ha dimostrato di avere la mente aperta, quindi sono orgogliosa, tremo anche un pochino a dover affrontare questa cosa, però ci metterò tutta l'anima, poi ho un paio di figure di riferimento femminili nel calcio che per me sono un'eccellenza e quindi prenderò spunto da loro e andrò avanti cercando di fare il meglio Comunque dai, qualche imbrione di conoscenza in merito l'hai già acquisito, vero? Magari è Sarzana, tu che dici? Eh sì, Sarzana è stata un banco proprio, come un banco scolastico, si comincia dall'inizio, si sale mio marito ha aiutato la Tarros a far crescere in modo esponenziale il torneo Tata-in, il torneo internazionale Tata-in e stando dietro di lui ho imparato tante cose, spero di aver imparato tante cose, spero di metterle in pratica qua perché lo meritano, sono una società per me eccezionale perché è bastato un quarto d'ora di chiacchierata ed era già tutto fatto, quindi mi affiderò alle esperienze passate, alla Tarros, soprattutto dietro a Stano mio marito che mi ha insegnato tanto, spero Grazie 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 a tutti.